Adesso Vanessa Palucchi, passerei il microfono. Sono a distanza, la vediamo e la sentiamo. Grazie molte, buongiorno innanzitutto e grazie dell'invito di questo momento anche interessante di intescambio, soprattutto anche per la complessità del partenariato. Questo è sempre un buon indicatore di voler cambiare insieme delle cose. Noi molto spesso, quello che sostengo, parliamo nel terzo settore di coprogettazione, a volte la dobbiamo esercitare innanzitutto tra di noi e questo mi sembra un laboratorio. Dico alcune cose di merito sui contenuti del progetto perché mi ha molto colpito, infatti ho mandato un messaggino anche a Tiziano, ho detto bello il progetto, perché questa è una mia fissazione e la ridico ogni volta. Credo che noi abbiamo in Italia alcune emergenze. Una di queste emergenze principali, di cui se ne parla veramente molto poco perché le intercettiamo poco e hanno anche poca voce in capitolo da un punto di vista politico, è un'emergenza infanzia, un'emergenza giovani. Mi sembra che questo progetto sia costruito per dare risposte di prossimità, puntuali, diffuse, con il radicamento territoriale e mi sembra che su questo metto in primo piano i giovani perché so, e lo faccio sempre presente, che se dovessero chiudere le nostre associate che si occupano di attività e di sport di base, noi avremmo un crollo delle politiche che si rivolgono ai giovani e ai ragazzi e quindi già si fa un grandissimo lavoro. Bisogna sicuramente allineare i pianeti e governarlo da un punto di vista anche istituzionalmente con una maggiore consapevolezza per sostenere questo mondo. Accanto a questo le altre disuguaglianze che ci sono e mi sembra che questo progetto fornisca delle risposte sia anche quello territoriale. Noi non dimentichiamo che accanto a quello c'è anche quello territoriale che riguarda il centro e la periferia del territorio, dei territori. Quindi non sempre chi vive nelle aree marginali c'è le stesse opportunità, ma ancora viviamo nord e sud, lo viviamo nell'edilizia scolastica per le palestre, lo viviamo anche nella diffusione delle opportunità di sport di base che vengono date. Quindi su questo mi sembra, diciamo, questa chiave sistemica estremamente utile come metodologia e opportuna politicamente. L'altra questione è da ambientalista. Mi piace molto quando si parla di diritto al movimento e si parla però anche del movimento e dello spostamento funzionale, di quello che è la capacità delle persone di muoversi in una maniera autonoma e sostenibile, prima Tiziano diceva dolce, all'interno dei propri territori nelle funzioni che devono avere nella città, nei luoghi dove vivono. Questo guardate che è, credo, un diritto antropologico prima di un diritto sociale. Proprio è nella nostra natura e vedo che dopo la pandemia molte persone lo stanno riscoprendo. Mi sembra che questo passaggio sulla sostenibilità, quindi costruire quelle condizioni per cui noi ambientalisti, ma noi ambientalisti, cioè con noi con, io provengo da l'ambiente con WISP, abbiamo sempre fatto molto del lavoro sul rapporto tra movimento e città, ragazzi e città, sia una dimensione assolutamente da riscoprire perché lì ricostruisce anche l'identità territoriale, locale, insomma, è una complessità sulla quale vanno poi appoggiate molti valori e molte sperimentazioni. Ritorno alla diffusione capillare. Mi dispiace che sia andato via il ministro Orlando. Ovviamente in presenza del ministro Orlando siamo stimolati a parlare della questione della riforma, anche perché è il convitato di pietra, quindi ne dobbiamo necessariamente anche fare alcune considerazioni. La prima considerazione che faccio è che uno dei motivi per cui il terzo settore, il forum del terzo settore, in particolare, si è battuto e, come dire, ha costruito anche alcune condizioni importanti perché non sparisca, non venga depotenziato il piccolo associazionismo e piccolissimo di prossimità. E poi anche chi sta nelle reti, i nostri, diciamo, associati e le nostre nuclei operativi territoriali alla fine sono piccoli e quindi per noi è fondamentale che questa riforma valorizzi questa incredibile storia italiana di diffusione di volontariato, di associazionismo e non che sia penalizzante. Su questo devo dire che con il Ministero del Lavoro abbiamo fatto un partenariato in tal senso per costruire a nostra volta nel 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 paese questa consapevolezza. Mi fa molto piacere che oggi con Pietro Barbieri si sia parlato di questo perché anche rispetto all'Europa, al CESE, appunto, prima c'era il parlamentare europeo, noi dobbiamo fare un lavoro congiunto come paese molto forte per far capire che quando si parla di un modello italiano, dell'associazionismo e del volontariato, si sta parlando non di una cosa sui generis, diciamo, che appartiene solo a noi, ma di un modello che altri dovrebbero anche imitare per capacità di diffusione, di coesione, di radicamento, di costruzione di identità, di risposta anche politica ai bisogni delle persone nella prossimità e faccio un passaggio molto molto semplice per cui noi diciamo abbiamo voluto anche che questa riforma fiscale che vedrà appunto, noi siamo in attesa, in trepida attesa ovviamente, vedrà la luce e quindi il completamento di una riforma che si è allungata ancora rischia di diventare molto impopolare anche nel mondo del terzo settore, dobbiamo spenderci questo modello italiano non come il mondo della buona volontà, ma come una leva di sviluppo per guardare a un modello di sviluppo che abbia nella partecipazione, nella coesione, nella condivisione una piattaforma necessaria per dare gambe a ogni idea che vadano nella direzione dell'agenda 20-30 e della sostenibilità per come ce la siamo raccontata qua. Quindi in questo senso volevo appunto connettere quanto sta in questo progetto, quanto è il valore che noi diamo a tutto questo e quanto giustamente pretendiamo che nella riforma sia rappresentato e non sacrificato. quindi dobbiamo lavorare insieme perché a livello nazionale ma anche a livello europeo questo sia ben compreso perché credo che sia l'interesse dell'Europa, appunto ci troviamo nella casa europea in Italia, quindi insomma mi fa molto piacere dire questo qua, che appunto in Europa l'interesse sia quello di valorizzare ciò che di meglio va nella dimensione dell'inclusione e della sostenibilità e questo modello italiano probabilmente è da raccontare e da narrare anche una storia molto interessante di cui la WISP sicuramente come storia e come presenza territoriale ne è una testimonianza. Quindi facciamo l'in bocca al lupo a questo progetto e sicuramente insomma lo monitoreremo come una delle messe a terra fondamentali per leggere poi l'efficacia anche di un progetto così sistemico interessante. Grazie.